Si aggrava di ora in ora il bilancio delle vittime dell'esplosione che ieri ha devastato un'ampia zona di Beirut, oltre a 100 le vittime accertate, ma ci sono anche altrettanti dispersi e migliaia di feriti. Tra questi un militare italiano colpito lievemente, confermata la presenza di 2700 tonnellate di nitrato d'ammonio sequestrate e stoccate al porto dal 2013. Preoccupazione per le tossine presenti ora nell'aria. Sono sempre stato rigoroso, ma ora concederemo qualche apertura per ripartire. Non avremo nuovi lockdown. Il Premier Conte, in un'intervista al Corriere della Sera, annuncia quella che sarà la linea più morbida del governo nella gestione dell'emergenza Covid nelle prossime settimane, garantendo anche la puntuale riapertura delle scuole. Dalla maggioranza però arriva un richiamo diretto al Premier sulla nuova legge elettorale. Serve subito, Conte deve intervenire, la Costituzione è a rischio, le parole del capogruppo PD, Graziano Del Rio. A due anni dal crollo del Morandi, Genova torna a essere unita dal nuovo ponte San Giorgio, aperto ieri sera agli automobilisti. Il nuovo tratto non ha però per ora risolto i problemi di traffico nella zona con lunghe code e forti disagi. Intanto continua la difficile trattativa sulla concessione autostradale tra governo, Cassa Depositi e Prestiti e Atlanti alla holding dei Benetton che controlla Aspi. È morto ieri sera a Roma Sergio Zavoli, grande maestro del giornalismo televisivo, fine intellettuale, era nato a Ravenna nel 1923. Con i suoi programmi innovativi come il processo alla tappa e le sue inchieste, tra le quali la notte della Repubblica, ha narrato oltre mezzo secolo di storia italiana senza mai abbandonare l'idea etica dell'informazione. Fu presidente della RAI, della Commissione di Vigilanza e senatore del PD. Concluso il campionato ripartono anche le competizioni europee. Si comincia con gli ottavi di finale di Europa League che si giocheranno in Germania all'Inter, sfida in gara secca agli spagnoli del Getafe a Gelsenkirchen. Conte schiererà ancora al 3-5-2 con la coppia d'attacco Lukaku-Lautaro Martinez. Buongiorno ad altri giornali della Sette, dunque ricominciamo dal racconto, dalle nuove immagini e le notizie che arrivano dall'inferno di Beirut, la capitale libanese squassata da quella esplosione, due esplosioni e soprattutto una situazione che è ancora di massima emergenza. perché da una parte sotto quelle macerie che di fatto hanno distrutto almeno metà della città con gravi danni, si cercano le persone quelle ancora vive. Ci sono un centinaio di vittime ma almeno ancora si quotano un centinaio di dispersi. Poi ci sono i feriti, almeno 4.000 e migliaia di sfollati e anche le persone che vivono in città eppure non sono state ferite sono comunque in uno stato di massima allerta perché secondo le autorità dopo l'esplosione c'è un pericolo tossine nell'aria e dunque chi può deve abbandonare quella città. Dicevamo devastata un'esplosione che si è sentita addirittura fino all'isola di Cipro. Cerchiamo di mettere ordine e anche di capire quel che è certo rispetto alle cause, rispetto a tutto ciò che è ancora invece da stabilire. Il silenzio irreale dell'alba è la devastazione di Beirut. Interi quartieri del centro non esistono più, spazzati via dalla doppia esplosione di ieri pomeriggio e dalla terribile onda d'urto. Un boato apocalittico avvertito persino a Cipro, distante 250 chilometri. Il bilancio più che mai provvisore è di almeno 100 morti e 4.000 feriti, tra cui anche un militare italiano non in gravi condizioni. Gli ospedali, almeno quelli rimasti in piedi, sono al collasso e il patriarca marronita, il cardinale Rai, chiede aiuto a tutto il mondo per salvare la capitale libanese. All'appello mancano oltre 100 dispersi che le squadre di soccorso cercano tra le macerie ancora fumanti, attorno all'enorme cratere dell'esplosione. E oltre a quel che è già avvenuto preoccupa molto anche quello che potrebbe ancora verificarsi. Il ministro della salute libanese Hassan consiglia infatti a chiunque possa di lasciare la città per non respirare i veleni sprigionati dalla deflagrazione, che a lungo termine potrebbero avere conseguenze letali. È il governatore di Beirut, Marwan Abuda, a fornire le altre cifre del disastro. I danni vanno dai 3 ai 5 miliardi di dollari. 300.000 persone sono senza casa, profughi nella loro stessa città. Sembra Hiroshi, ma quasi la metà di Beirut è distrutta o danneggiata, dice il governatore, prima di scoppiare a piangere. Tra le rovine ci sono anche gli esperti che dovranno mettere ordine al caos e accertare le cause. Il governo libanese parla di un incidente, un incendio oppure una banale saldatura avrebbero fatto detonare 2.700 tonnellate di nitrato di ammonio, sequestrate sei anni fa in una nave e da allora colpevolmente stoccate e dimenticate in un hangar del porto. È inaccettabile che una sostanza così pericolosa possa essere stata abbandonata, ha scritto il presidente libanese Aoun. I responsabili pagheranno, ha promesso invece il premier Diab. Il nitrato di ammonio viene utilizzato per produrre fertilizzanti, ma anche esplosivi ai terroristi. Lo conoscono fin troppo bene. E non a caso Trump questa notte ha parlato senza mezzi termini di una bomba, dunque di un attentato, tesi però rispedita al mittente dal governo libanese. Israele ha annunciato di non aver avuto nulla a che fare con la tragedia, ma a Gerusalemme alcune fonti precisano che il magazzino dell'esplosione sarebbe stato in realtà un deposito di ex bollare. Secca la smentita del movimento uscita filo iraniano. Ero seduto sulla mia scrivania e all'inizio sembrava un terremoto perché non si sentiva, non si è sentito nessun impatto. E quindi mi sono sentito volare, la sedia volare e poi non ho capito più niente. Non ho capito più niente e in corso siamo scesi tutti in pronto soccorso. Slim è il primario di un ospedale privato di Beirut nel centro della città. Queste sono alcune immagini che ha ripreso lui stesso questa notte. 800 ricoveri solo nell'Ao Medical Center che lui dirige, ci ha detto. La maggior parte dei feriti sono feriti da impatto negativo, pressorio, vetri, nettamente e diversi rispetto ai feriti di guerra vera e propria. Quindi è un lavoro più brutto. Mi spiace, non riesco a trovare neanche le parole per rendere l'idea. Marina Molino Lova era nel centro dell'ONG Avzi a 20 km da Beirut ieri sera, ma è sembrato che fossero esplose 100 bombe sotto di loro. Tutto ora stanno scavando, stanno togliendo detriti e stanno cercando i soccorritori di arrivare ancora ad alcuni appartamenti, alcune zone di Beirut dove non sono ancora arrivati. Questa notte già c'è a callaggio su tutti i negozi aperti, le case aperte dove le persone non hanno potuto dormire dentro. Quindi dobbiamo cercare anche di cominciare a capire. A partire dal nostro staff e poi dalle persone che vivono attorno, anche in quei quartieri più colpiti, tante famiglie povere hanno perso tutto. Sono stati già ospitati in altre zone di Beirut o del paese, ma veramente non sappiamo come cominciare a contare i danni. Ora Marina ha lasciato la città come consigliato dalle autorità libanesi. Altri suoi colleghi stanno lavorando nella zona crollata e tutta l'organizzazione è attiva nel cercare di reperire quanti più aiuti possibili. Anche Giane è una cooperante Avzi. I tre più grandi ospedali di Beirut sono distrutti. Adesso stanno organizzando degli ospedali da campo con degli aiuti che stanno arrivando da fuori, proprio perché gran parte degli ospedali del centro sono inagibili. Insomma, in qualche modo l'offerta di aiuti arriva da più parti, la stessa Unione Europea. Peraltro poco fa il presidente francese Macron ha confermato che domani sarà a Beirut per incontrare i politici locali e per stare vicino a un paese, a una città in particolare Beirut, in cui il tempo delle bombe esplose, fatte esplodere apposta o accidentalmente, questo lo capiremo, e più là sembra non cessare mai. È una città ostaggio delle sue cicatrici che siano quelle della guerra civile o dei conflitti confessionali. Un paese al collasso, devastato da 25 anni di guerra civile prima e poi da una drammatica crisi economica. È al centro di un conflitto mai sopito, quello tra Israele e la milizia sciita di Hezbollah, già protagonisti di una guerra disastrosa nel 2006 e che negli ultimi mesi ha dato di nuovo segnali preoccupanti per la polveriera medio orientale. Oggi il Libano vive uno dei momenti più bui della sua travagliata storia, un paese di fatto già tecnicamente fallito, con un buco finanziario da 90 miliardi di dollari, dove il Covid ha fatto il resto, portando il tasso di disoccupazione fino al 25% con un terzo della popolazione sotto la soglia di povertà. Instabilità politica e frammentazione religiosa hanno influenzato la storia del paese dei cedri, rendendolo un facile bersaglio di interferenze da parte di potenze straniere, visto il sostegno dell'Iran al movimento sciita di Hezbollah, il più potente gruppo militare politico. Per una strana coincidenza i fatti drammatici di ieri a Beirut arrivano alla vigilia dello storico verdetto, atteso dopodomani al Tribunale ONU dell'AIA a 15 anni di distanza dall'uccisione dell'ex premier libanese Rafi Kariri. La strage di San Valentino, una bomba squassò il centro della città il 14 febbraio del 2005, costò la vita ad Ariri e ad altre 21 persone, segnando profondamente la storia del paese. Gli uomini alla sbarra appartengono tutti al movimento sciita libanese di Hezbollah. Il figlio di Kariri, Saad, ha ricoperto la carica di primo ministro, ma è stato costretto a dimettersi lo scorso dicembre quando sono cominciate le proteste contro il governo, ma anche il nuovo esecutivo sta perdendo pezzi. Nel frattempo si è riacceso lo scontro tra Israele e Hezbollah che, come ricordano diversi analisti, utilizza proprio la zona del porto di Beirut per stoccare le sue armi. Veniamo alle questioni italiane, a quel che sarà anche dal punto di vista delle scelte politiche. Qualche anticipazione dalle colonne del Corriere della Sera le ha date proprio il Presidente del Consiglio Conte, in tema Covid, quale sarà la nuova linea dell'esecutivo? Un po' più morbida, un equilibrio più spostato però sull'effettiva possibilità di ripartire a livello economico mantenendo la prudenza, non più lockdown e poi parole importanti su un settore davvero stravolto, quello della scuola. Basta con le restrizioni, è tempo di ripartire. In vista del varro del prossimo di PCM sulle misure anti-Covid, che dovrebbe essere firmato in settimana, Giuseppe Conte annuncia che nel nuovo decreto ci saranno alcune aperture rispetto alle limitazioni adottate nel momento peggiore della pandemia. Sono sempre stato rigoroso, ma ora ho la percezione che se concederemo qualche apertura faremo bene, spiega in un'intervista al Corriere della Sera, dove lascia trasparire una certa fiducia sulla ripartenza del Paese. Conte insiste sulla necessità di non abbassare la guardia su mascherine e distanze. Sono limitazioni fondamentali, ma solo così il motore economico del Paese potrà rimettersi in moto. Tutto quello che si ferma rischia di essere perduto, dice il Premier, guardando ai settori che più degli altri sono stati messi in ginocchio dal virus. Il turismo, la ristorazione e gli esercizi commerciali. Poi c'è la scuola, argomento bollente per il Governo e sul quale dice di avere una responsabilità personale. È il mio impegno con i giovani, le famiglie, il Paese, gli insegnanti e il personale. La scuola riparte, non ci sono dubbi, senza ritardi né nuovi rinvii, assicura il Premier, che ne rivendica la chiusura durante il lockdown. Una scelta obbligata per non mettere a rischio l'incolumità degli alunni, veicolo di contagio anche per gli anziani. Stamane intanto la Ministra dell'Istruzione, Lucia Azzolina, ha avuto prima un incontro in videoconferenza con gli assessori all'istruzione delle regioni per fare il punto sul nuovo personale docente da assumere. In programma anche una riunione con i sindacati per mettere a punto il protocollo di sicurezza, che dopo mesi di didattica a distanza darà il via libera a tutti gli studenti per tornare in aula in presenza il 14 settembre. Perché, come avvertito ieri il segretario generale dell'ONU, Antonio Guterres, con le scuole chiuse c'è il rischio di una catastrofe generazionale. Il capogruppo del Partito Democratico, la Camera Graziano del Rio, tira per la giacca anche il Presidente del Consiglio Conte per rilanciare le ragioni della riforma elettorale. Deve intervenire, la Costituzione è a rischio, dice in un'intervista a Repubblica. Riforma da fare subito perché se il referendum confermerà il taglio dei parlamentari con l'attuale sistema, spiega del Rio, verrà a crearsi uno squilibrio serio per l'assetto istituzionale. Del Rio Durissimo con l'amico ex collega di partito Matteo Renzi, accusato di aver cambiato idea dopo aver sottoscritto a gennaio un accordo condiviso con tutte le altre forze di maggioranza per un sistema proporzionale. Fatto grave, dice Del Rio, che insiste anche sullo sbarramento, deve rimanere al 5%. Muro contro muro perché Renzi proprio sulla correzione dello sbarramento potrebbe riavviare il confronto. Noi siamo stati sempre a favore del maggioritario e per la legge elettorale dei sindaci. Se altri vogliono il proporzionale discutiamo, ma le priorità sono i posti di lavoro e il Paese che non ce la fa. L'ultimo messaggio, possibilista di Renzi, mentre ai suoi zingaretti avrebbe parlato anche di possibile ultimatum da lanciare, col PD pronto a riformare con chi ci sta il sistema elettorale. La partita rimane molto complicata perché in realtà anche dentro il PD non tutti condividono l'accelerazione. Le priorità sono altre, ha detto questa mattina Omnibus il governatore dell'Emilia Romagna, Bonaccini. Non solo, ma anche la sponda azzurra sulla quale sembra voler puntare il segretario PD come arma per convincere Renzi, non è così sicura. Del Rio è ossessionato dalla crescita del centrodestra e dal varo di una riforma elettorale che possa in qualche modo arginarla, interviene Francesco Paolo Sisto, responsabile del Dipartimento Affari Costituzionali di Forza Italia, una frenata rispetto all'apertura di Brunetta. La vera necessità, il giorno dopo il referendum, sarà attivare una task force per riscrivere i regolamenti di Camera e Senato, che dopo il taglio non sarebbero in grado di funzionare. Il resto serve per difendere le poltrone, l'affondo di Roberto Calderoli, leghista vicepresidente del Senato. Sono poi giorni, a dire realtà ormai le ore del decreto agosto, ripreso stamattina il lavoro dell'esecutivo, quei 25 miliardi che servono per rilanciare i consumi, per blindare l'economia, si fa quel che si può perché i settori di intervento segnalati dai singoli ministeri sono molti e poi c'è un pacchetto lavoro piuttosto complicato che riguarda poi anche le tensioni già nate coi sindacati. Lavoro, scuola, enti locali, fisco e rilancio dei consumi in 91 articoli. Una manovra estiva da 25 miliardi di extra deficit. Prende forma in queste ore il decreto agosto, atteso domani in Consiglio dei Ministri e al centro degli incontri di ieri sera e questa mattina fra il Presidente del Consiglio e i capi delegazione della maggioranza. Obiettivo? Chiudere il prima possibile. Un'urgenza ribadita dalla pioggia di previsioni negative sull'andamento dell'economia post-covid, l'ultima dell'ufficio parlamentare di bilancio, prospetta un calo del PIL del 10,4% nel 2020. Ancora molti nodi da sciogliere, tutti i politici. Il più delicato? Prorogare il blocco dei licenziamenti, sì, ma per quanto tempo? Fino alla fine dell'anno, chiedono i 5 Stelle e la Ministra del Lavoro Catalfo. Possibile fino al 15 ottobre massimo, con la scadenza dello stato di emergenza, per PD, Italia Viva e Ministero delle Finanze. Fra i due litiganti intervengono i sindacati, proroga del blocco dei licenziamenti fino alla fine del 2020 o il Governo si assumerà la responsabilità del rischio di uno scontro sociale e minacciano lo sciopero generale per metà settembre. La colonna portante sarà proprio il pacchetto lavoro. Circa 13 miliardi, la maggior parte è necessaria a coprire altre 18 settimane di cassa integrazione, che però diventerà selettiva. Sarà gratuita solo per le aziende che dimostrino una perdita di fatturato nel primo semestre. Verrebbe anche erogato un contributo a fondo perduto per i negozi dei centri storici, desertificati dalla crisi. E poi ancora, il fisco. Si parla di rinvio delle tasse sospese durante la pandemia e di uno stop alla riscossione delle cartelle esattoriali fino al 15 ottobre. Novità anche per la sanità, a cui arriveranno più fondi per gli straordinari, per recuperare prestazioni ambulatoriali, screening di ricovero ospedaliero non erogate nell'emergenza. Non ancora chiara invece la forma del bonus consumi, che assorbirà almeno 2 miliardi. Lo sconto fra il 10 e il 20%, immediato per il cliente e poi rimborsato all'esercente, dovrebbe valere per bar, ristoranti, abbigliamento, scarpe e arredi. Per i ristoratori in più, in arrivo, un max incentivo per l'acquisto di generi alimentari, prodotti esclusivamente in Italia. Sono arrivo a nuove misure per l'emergenza Covid. La linea l'ha dettata, lo dicevamo il Presidente del Consiglio, ma nel stretto termine ci sono contagi in leggero aumento, ma anche tamponi più numerosi e soprattutto tutto un blocco che riguarda le norme sui trasporti, sui distanziamenti, su cui si sta lavorando proprio in queste ore. Il Comitato Tecnico Scientifico e la Ministra dei Trasporti, Paola De Micheli, tornano a riunirsi per definire le nuove linee guida su mobilità e sicurezza sanitaria. Fa ripartire fiere, convegne e crociere? Anche il Premier Conte si dice ottimista, ma gli esperti restano fortemente critici, in particolare sull'opportunità di dare il via libera alle grandi navi da crociera, che oggi sono ferme in tutto il mondo. I timori nascono dalla diffusione del contagio all'estero, che aumenta il rischio di una seconda ondata nel nostro Paese, mentre la curva epidemiologica continua ad oscillare tra i 200 e i 300 casi giornalieri. Nelle ultime 24 ore i nuovi contagi sono stati 190 in risalita rispetto al giorno precedente e 7 i decessi. Focolai continuano ad accendersi in tutto il territorio, l'ultimo cluster ieri in un'azienda agricola del Mantovano, con 97 casi. Proprio per definire le linee guida per il nuovo DPCM che entrerà in vigore il prossimo 10 agosto, gli esperti del CTS saranno in videoconferenza alle ore 15. Il nodo principale resta quello del distanziamento a bordo dei mezzi di trasporto pubblico e la possibilità di aumentare la capienza, al momento dimezzata, sulla linea ferroviaria dell'alta velocità. Sui treni i tecnici sarebbero orientati a mantenere i limiti attuali. Una deroga potrebbe riguardare le sedute frontali da riservare a conviventi o nuclei familiari. Ma servono regole omogenee anche per i trasporti locali e chiare, onde evitare incidenti di percorso come quello della settimana scorsa, con il ministro Speranza costretto a intervenire con un'ordinanza dietro front per bloccare Trinitalia e Italo, pronti a riempire i convogli al 100%. A bordo degli aerei probabilmente sarà consentito occupare tutti i posti disponibili perché il ricambio dell'aria avviene ogni tre minuti e i passeggeri non sono mai seduti uno di fronte all'altro. Quanto alle riaperture di discoteche e stadi, tema caldo di quest'agosto con ogni probabilità si dovrà attendere ancora. È finita l'attesa invece per la città di Genova, di nuovo ricollegata nei due versanti dal nuovo ponte San Giorgio. Bisognerà attendere un po' di più per capire che beneficio ne trarrà la viabilità. Questa mattina qualche problema di congestione, tutta la regione ne dovrebbe trarre beneficio. È un nuovo viadotto, lo ricordiamo che per il momento è in gestione ad Aspi, ma la partita sulla concessione è tutta aperta. Ponte nuovo, code vecchie. Poco più di 12 ore di apertura al traffico del ponte Genova a San Giorgio non risolvono i problemi del traffico nella zona. Anche nelle mattine prima del 14 agosto il vecchio ponte Morandi, già gravemente malato, sopportava le lunghe file di camion d'auto. Oggi il traffico sul ponte vede code lunghe anche chilometri, sia da Levante che da Ponente dovute a concause diverse. Un auto articolato ha completamente sradicato i limitatori di sagoma all'ingresso della Galleria Coronata, danneggiando poi anche un altro cartello. Nella corsia sud invece la coda era ancora più lunga, la causa lontana dal ponte però. Cantiere in una galleria della Genova Milano, un tunnel finito nel mirino della Procura di Genova per il rischio di possibili crolli. C'è il ponte nuovo, ma restano i cantieri e la situazione potrebbe peggiorare proprio per la chiusura di 15 giorni della Galleria Monte Galletto per lavori urgenti dopo l'ispezione da parte dei tecnici del MIT. Un avvio difficile per il ponte San Giorgio. Due mezzi pesanti presenti sulla careggiata nel giorno dell'inaugurazione avevano provocato due avvallamenti e ieri si è dovuto rifare un tratto di manto stradale. Il ponte è stato aperto al traffico solamente dopo le 22, con un paio d'ore di ritardo rispetto alle previsioni. Apri pista le auto della polizia, dietro un corteo di automobilisti impazienti di essere tra i primi ad attraversare il nuovo viadotto che onnisce nuovamente le due sponde della Valpolcevara. Intanto procede tra difficoltà e incertezze la trattativa tra Atlantia, Governo e Cassa Depositi Prestiti su Autostrade per l'Italia. La holding dei Benetton, che detiene l'88% di Aspi, proporà al Governo due soluzioni per cercare di raggiungere un'intesa. S'è andato scomparso Sergio Zavori, un maestro del giornalismo televisivo italiano, un fine intellettuale, tanto tanto altro ancora, sarà seppellito a quanto pare a Rimini, così le sue ultime volontà accanto a Fellini. Nel giornalismo la correttezza, l'onestà, l'indipendenza valgono più della carriera. Questa l'eredità morale e professionale che ci lascia uno dei più grandi giornalisti e testimoni italiani del Novecento. Sergio Zavori, morto questa mattina a Roma all'età di 96 anni. Nato a Ravenna nel 1923, era cresciuto a Rimini, dove nel dopoguerra aveva mosso i primi passi nel mondo del giornalismo con il racconto di fatti attraverso un notiziario improvvisato, trasmesso ad un megafono. La sua voce inizia ad essere la firma del suo lavoro. Nel 1948 Vittorio Veltroni lo chiama alla RAI, alla radio, poi con Enzo Biagi, la prodo in tv. Indimenticabile il suo processo alla tappa, appuntamento quotidiano sotto lo strescione dell'arrivo al Giro d'Italia, crea un genere. Nel 1972 inizia il suo viaggio nella storia d'Italia, con nascita di una dittatura, intervista senza pregiudizi, ex gerarchi fascisti e chi fu perseguitato da Mussolini. Nel 1989 la riflessione più dolorosa, la notte della Repubblica, ha raccontato gli anni di piombo con interviste inedite ai protagonisti del terrorismo di destra e di sinistra. Buonasera, è l'ultima delle tre puntate che abbiamo dedicato al caso Moro. Direttore del GR1, Presidente della RAI, diventa nel 1991 senatore nelle liste dei democratici di sinistra. Viene rieletto a Palazzo Madama nella 2006 con l'Olivo e dal 2008 al 2013 con il PD. Direttore del Mattino di Napoli dal 1993 al 94, opinionista per diversi settimanali, Zavoli ha sempre coltivato un'idea etica dell'informazione al servizio dei cittadini. Domani l'ultimo saluto nella camera ardente che verrà allestita con ogni probabilità in Senato per poi essere tumulato a Rimini, la città che gli regalò anche uno dei suoi più grandi amici e compagni di vita, Federico Fellini. Con lui si era sentito ogni giorno per scambiarsi pensieri e riflessioni. Allora, calcisticamente siamo ad agosto ma sembra marzo, cioè la fase più intensa delle coppe europee. Ci sono ancora quattro squadre italiane che possono ambire la vittoria in Europa League e Champions League, tre delle quali se la vedranno con avversari e spagnole, forse sulla carta il compito meno complicato. C'era proprio l'Inter stasera contro il Getafe. Tutti sotto la stessa bandiera. Il reazionario Conte sorride con i suoi ragazzi, depone i propositi bellicosi e fa appello all'unità nell'azzurra perché la Coppa chiama e l'occasione racchiude significati pesanti. Resta dunque al Getafe, il cui nome non può incutere timori all'internazionale, ma le insiste del calcio moderno subrano il biglietto alla visita. Poi però c'è l'enorme di vario tecnico che va suffragato dai fatti. Ci vuole quindi l'atteggiamento corretto, quello con cui l'Inter ha concluso il campionato battendo il Napoli e l'Atalanta, neutralizzando l'attacco atomico di Gasperini. Potrà essere una partita sporca e che dovremmo sporcarci, però penso anche che la squadra abbia raggiunto quella maturità per calarsi nella giusta maniera. L'aggettivo usato da tecnico si riferisce alle caratteristiche degli spagnoli che prima del virus si erano messi in luce per la capacità di non far giocare gli avversari, poi sono calati nettamente. Contro l'aggettivo hanno sofferto le bighe della Liga, Barcellona Reale e Atletico Madrid. In Europa quattro gare senza subire gol. Per conquistare gli ottavi ha eliminato il superfavorito Ajax e l'allenatore Bordalas non gradisce l'etichetta di partita sporca scelta dal collega. Non ci sono deroghe tattiche a 3-5-2 Contiano, resta sempre a guardare Eriksen che ormai è avulso dal contesto. Formazione solida con Brozovic, Gagliardini e Barella in mezzo per affidare le soluzioni offensive a Lukaku e Lautaro Martinez con il brillante Sanchez. Di questo periodo è diventato a tutti gli effetti un calciatore interista dopo il prestito. Si gioca la sfida dentro o fuori nello stadio di Gelsen-Kirchen che non evoca buoni ricordi. Nel 2011 in Champions ci fu il crollo a sorpresa degli eroi del triplete allenati da Leonardo, motivo in più per esorcizzare il passato. Il sipario si alza con altre tre partite che disputano il ritorno. Si comincia con Shakhtar Donetsk-Wolfsburg 2-1 per gli ucraini e Copenhagen-Basak Shehir 1-0 per i turchi. In serata una formalità per il Manchester United che parte dal 5-0 con il Lask. I Red Devils hanno vinto l'Europa League con Mourinho il 2017 e sono i grandi favoriti. La pubblicità, torniamo tra poco. Di nuovo insieme col Telegiornale, non ci sono aggiornamenti importanti, dunque vi rimando per tutte le notizie all'informazione delle venti con il Tg. Noi domani, se volete, alle 13.30 siamo qui. Una buona giornata a tutti voi. Grazie.